New Gel, qualità nella ristorazione da oltre 15 anni. New Gel a Lecce si occupa di commercio all'ingrosso di prodotti surgelati come ITC vegetali dolciari di rosticceria. I prodotti sono consegnati al cliente in perfetto stato di conservazione grazie all'utilizzo di una cella a frigo di circa 400 metri quadrati che può lavorare con temperature minime di meno 40 gradi centigradi. Nella sua attività di vendita all'ingrosso di prodotti surgelati, New Gel si rivolge a strutture ristorative e comunità. La soddisfazione dei clienti è data anche da un efficiente servizio di consegna door-to-door in tutta la Puglia, entro 24 ore dall'ordine, che può essere acquisito anche telefonicamente.